Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Betul ritornare a casa dopo una giornata di lavoro e con entusiasmo comunicare a Sermin che è felice per i progressi rapidi dei loro piani. Mostra a Sermin la procura firmata da Demir, lasciando la sorpresa. Betul, soddisfatta, rivela che Demir è stato arrestato lo stesso giorno in cui le ha consegnato la procura. Sermin, felice, esclama che ora l'azienda è loro. Betul rassicura Sermin, affermando che nessuno potrà toglier loro l'azienda, e si abbracciano con gioia. Successivamente, Sermin esprime il desiderio di vendicarsi per le ingiustizie subite. Tuttavia, è importante capire la strategia di Sermin, che mente a sua figlia dicendole di essere stata derubata dagli Yaman. Questo per evitare di confessare di aver speso tutti i soldi con cui Demir aveva riacquistato la sua parte di eredità. Nel frattempo, la trama si sviluppa con Demir che incontra Fikret nell'ufficio del direttore del carcere. Fikret chiede a Demir se ha parlato con l'avvocato, e Demir risponde che farà opposizione, ma dubita che qualcuno gli creda. Demir afferma che la sua unica possibilità di salvezza è che Umit confessi di aver ucciso Sevda. Fikret suggerisce a Demir di trovare un modo per uscire dal carcere per proteggere la sua famiglia. Zuleya, intanto, è con il pubblico ministero e racconta come Umit abbia ucciso Sevda. Descrive anche come, prima di morire, Sevda abbia pregato Demir di non denunciare sua figlia e di non far nascere suo nipote in carcere. Demir non crede alle parole di Zuleya, ribadendo che tutti hanno sentito le minacce di Demir a Sevda e che la verità verrà alla luce in tribunale. Sermin sta rifacendo il letto di Umit quando nota una macchia di sangue sulle lenzuola. Capisce che si tratta di una macchia mestruale e realizza che Umit sta fingendo una gravidanza per confondere tutti. Nel giorno del colloquio in carcere, Fikret si presenta da Demir insieme a un uomo che assomiglia notevolmente a lui. Gli assicura che riusciranno a farlo fuggire. Quando viene annunciato che il tempo del colloquio è scaduto, un altro uomo di Fikret, impegnato con un altro detenuto, inizia a protestare, creando scompiglio tra i visitatori e i detenuti. Durante il caos, Demir indossa il cappello e la sciarpa dell'uomo che gli somiglia, coprendosi il volto, e esce insieme agli altri visitatori. Non lontano, lo attende Cetin con un camion nel quale Demir si nasconde. Una volta giunti in un campo, Demir scende e viene raggiunto da Fikret, il quale gli consiglia di recarsi immediatamente a Mersin prima che la sua fuga venga scoperta. Da lì, Demir dovrà raggiungere un porto dove una nave lo aspetta per lasciare la Turchia. Gli verrà fornito un passaporto falso da un uomo di fiducia. Tuttavia, Demir è irremovibile. Non partirà senza la sua famiglia, che è in pericolo. Fikret e Cetin cercano di convincerlo, ma Demir afferma che una volta messa in salvo la sua famiglia, tornerà indietro per vendicarsi di Akan, il quale ha rapito sua figlia. Così, Demir e Fikret partono per tornare alla villa. Nel frattempo, Zuleya racconta a Sanie che in tribunale non hanno creduto alla sua testimonianza. Quando Demir e Fikret arrivano, Demir informa Zuleya che è scappato perché è stato condannato. Le ordina di prendere subito i bambini e di andarsene con lui. Mentre si preparano a partire, uomini armati e mascherati assaltano la villa, lanciando bottiglie incendiarie. Scoppia uno scontro a fuoco violento, durante il quale Fikret protegge Zuleya e i bambini. Gli assalitori sono numerosi, ma improvvisamente il fuoco cessa. Zuleya cerca disperatamente Demir e, non trovandolo, urla il suo nome. L'incursione nella villa è giunta al termine, lasciando tutti attoniti e sbigottiti. Demir è misteriosamente scomparso, generando preoccupazione. Zuleya, disperata, lo cerca freneticamente. Fortunatamente, i bambini sono al sicuro. Nel frattempo, Sanye cerca Uzum e lo trova a terra ferito e svuotato di speranza. Immediatamente, Gaffur chiama Sanye e la trasporta in ospedale, dove viene portata in sala operatoria. Sanye, colpita da una crisi, trova conforto negli abbracci di Gaffur, che cerca di infonderle speranza e coraggio. Nel mentre, Sermin telefona a Betul, narrandole dell'assalto orchestrato da uomini armati che hanno colpito la villa con spari e bottiglie incendiarie. Demir è fuggito dal carcere, rendendosi introvabile. Nel frattempo, Umit si reca dal procuratore e, mentendo, afferma che Demir ha ucciso sua madre, affermando che il suo intento era rivolto anche a lei, ma la madre si è sacrificata per proteggerla. Il procuratore chiede il motivo per cui Umit risiede nella tenuta Yaman, e lei risponde che dopo l'incarcerazione di Demir ha chiesto aiuto a Sermin. In quel momento, il capo della polizia entra, annunciando la ricerca di Demir. Umit interviene, sostenendo che Demir non è nella tenuta e che lo ha visto fuggire da una porta secondaria. Aggiunge che sospetta che Demir abbia orchestrato l'assalto alla villa per fuggire indisturbato in Europa. Nel frattempo, a villa, Zuleya è con Fikret, esprimendo la sua incertezza sul destino di Demir. Betul si unisce al gruppo, consolando la madre mentre osserva con interesse Fikret. Poco dopo, arriva anche Lucy, informata della sparatoria da Batyar, e si impegna immediatamente a sostenere Fikret e Zuleya. Quest'ultima, disperata, confessa di non sapere se Demir sia stato rapito. All'ospedale, giungono gli altri feriti dell'assalto, tra cui Kumali. Inizialmente distante e sospettoso, osserva Sanye e Gaffur piangere abbracciati. Successivamente, si unisce a loro, iniziando a piangere e a disperarsi in modo apparentemente finto. Nella villa, Betul cerca Sermin per sapere dove si trovi Umit. Sermin risponde di non avere informazioni. Nel frattempo, Fikret, dopo una ricerca estesa nella tenuta, torna da Zuleya con la notizia che Demir non è presente. Zuleya. Preoccupata. Domanda a chi possa averli attaccati. In quel momento, compare il comandante della polizia, interrogando Zuleya sulla posizione di Demir. Lei risponde che sono stati assaliti e Demir è scomparso. Il comandante suggerisce che potrebbe essere stato Demir a organizzare l'assalto, ripetendo le parole di Betul. Zuleya insiste sulla scomparsa del marito, supportata da Fikret. Ma il comandante non ascolta ragioni e ordina loro di seguirlo per l'interrogatorio. Betul interviene. Dichiarandosi la cugina di Demir e avvocato. Consiglia a Zuleya e Fikret di seguire la polizia per fornire spiegazioni, e si offre di accompagnarli. Giunti in procura, Zuleya e Fikret vengono portati in stanze separate. Il pubblico ministero entra nella stanza di Zuleya, e lei immediatamente gli chiede se ha avviato le ricerche per suo marito. Lui le risponde di dire dove si trova e dove deve incontrarlo. Zuleya, sorpresa dalle sue domande, spiega che hanno un nemico che ha danneggiato un loro mulino, rubato un camion e rapito la loro figlia. Anche se la bambina è stata ritrovata poco dopo fuori dal cancello, sono stati successivamente assaliti. Zuleya chiede al pubblico ministero perché non le crede. Lui le domanda chi sia questo nemico, ma lei risponde di non saperlo, poiché non ha avuto l'opportunità di chiederlo a Demir prima della sua scomparsa. In una stanza separata, stanno interrogando Fikret, il quale dichiara di non avere organizzato la fuga di Demir e sostiene che sia una coincidenza che si sia verificata dopo la sua visita. Nel frattempo, il procuratore dubita delle parole di Zuleya, dicendole che Demir ha ucciso Sevda. Zuleya assicura che ciò non è vero e racconta che Demir non ha denunciato Umit perché Sevda, poco prima di morire, gli aveva chiesto di non far finire la figlia in prigione. Tuttavia, il procuratore continua a non crederle, insistendo nel sospettare che tutti avrebbero cercato di fuggire in Germania. Nel frattempo, Fikret viene rilasciato, ma gli comunicano che Zuleya sarà trattenuta. Uscendo dalla stanza, Fikret trova Betul ad attenderlo. Lei gli assicura che rimarrà lì ad attendere Zuleya, e lui la ringrazia prima di allontanarsi. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? E se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi, voglio il continuo, nei commenti, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!